Mi piacerebbe che ci aiutasse a comprendere un po' il quadro generale, ovvero spiegarci quali sono gli interessi della Russia in Siria, in che modo questi interessi intralciano gli interessi invece degli Stati Uniti e qual è soprattutto il ruolo dell'Europa nel confronto tra queste due grandi potenze e se questo ruolo è cambiato dopo gli attentati di Parigi. La Russia è presente in Siria storicamente con una base militare a Tartus vicino ai Mari Caldi, come i russi percepiscono assieme alla Crimea e al Mediterraneo. Si tratta dunque di una presenza che ha una sua base storica e che viene però a essere espansa nel momento in cui gli iraniani chiamano i russi in gioco perché si rendono conto che le forze di Assad non riescono a essere rimpiazzate, dunque cominciano ad arrancare davanti alla sfida delle opposizioni e dello Stato Islamico sul terreno. Questa chiamata arriva grossomodo intorno al prima dell'estate del 2015 di quest'anno e a partire da quel momento è abbastanza chiaro che gli Stati Uniti non sono inizialmente opposti, si rendono conto che Putin agirà comunque e quindi cercano di stabilire un modus operandi che rischi di degenerare in una escalation sul terreno. Ciò fatto però nel momento in cui i russi cominciano a bombardare, come sempre fanno, cominciano a testare le cosiddette linee rosse, cioè quegli spazi in cui gli americani non gradiscono uno sconfinamento russo e dunque assistiamo a una serie di tensioni che sono a volte più retoriche che reali, ma che piano piano vanno ad assestarsi fino alla situazione attuale, che è quella che segue gli attentati di Parigi, in cui è del tutto evidente che è necessario un concorso di forze. Probabilmente la leadership francese Hollande, che fa la spola tra Mosca e Washington, riuscirà a portare avanti almeno una convergenza di facciata. Sul terreno è probabile che ciascuno cercherà a continuare di gestire i propri clienti, cioè formazioni militari ribelli in una Siria che sarà in qualche misura divisa nel post-guerra. Benissimo, grazie. Ho un'altra domanda. Mentre Al-Qaeda ci è stata raccontata come una rete del terrore, ISIS si autodefinisce Stato e quindi manifesta già nel nome che si attribuisce una vocazione evidentemente territoriale. Ci puoi dire quali sono le differenze e le affinità eventualmente tra Al-Qaeda e ISIS? Lo Stato Islamico dell'Iraq e di Sham, cioè della Siria, nasce da una costola di quella fazione di Al-Qaeda che sopravvisse alle grandi operazioni di controinsorgenza che vennero portate avanti dagli americani in Iraq nel 2007. Sopravvissuta, si è riconfigurata, si è espansa, è ripartita dalla Siria e ha rotto i confini di quello che era un mondo coloniale creando le basi di un califato, così si è proclamato, che ha evidentemente una dimensione territoriale come lei giustamente sottolineava. Ha in questo modo rotto un tabù, cioè l'idea che per riportare i tempi del califato, ovvero l'idea di un Islam purificato vicino all'ideologia wahhabita, ci sia bisogno di attendere, attendere le condizioni. Lo Stato Islamico ha tagliato il nodo gordiano di questa attesa e lo ha fatto utilizzando il terrore su ampia scala, insanguinando l'intero Medio Oriente e oltre il Medio Oriente. Al-Qaeda ha una capacità operativa più sofisticata, organizzata secondo il concetto di spettrale, di rete ramificata su diversi paesi e su diversi componenti, anche continentali, dal subcontinente indiano fino all'Africa occidentale e sono a tutti gli effetti due organizzazioni rivali in questo momento, sia sul terreno sia nello spazio della Infospea, sul web. Ciò detto, hanno delle convergenze tattiche in alcuni scenari e permangono delle grosse differenze. Grosso modo si può dire che se a livello di militanza lo Stato Islamico esercita una influenza, un effetto quasi magnetico sui più giovani, quella generazione che ha combattuto in Afghanistan e che è fatta di 40-50 anni, tende a resistere il richiamo dello Stato Islamico. È chiaro che nel momento in cui lo Stato Islamico viene circondato e raggiunge una sorta di limite naturale di espansione, perché non riesce a sfondare né sul versante kurdo, né sul versante sciita, né tantomeno su quello israeliano o quello turco, in quel momento inizia a cercare di superare la barriera propagandosi con azioni di tipo terrorista, soprattutto da dove provengono gli attacchi e quindi potenziando la retorica contro l'Europa, la Francia in primo luogo, ricordiamo la Francia è il paese colonizzatore nel caso della Siria. Un'ultima domanda. Abbiamo visto un po' i macroconflitti, mi piacerebbe ora riflettere un po' sulla situazione interna, sui conflitti interni alle società europee. Gli attentati di Charlie Hebdo a gennaio e gli ultimi attentati a Parigi sembrano essere mossi da un odio che ricorda un po' quello che mosse le rivolte del 2005 nelle banlie parigine. Ed è come se quello stesso odio oggi fosse convogliato all'interno di attentati di matrice islamista. Secondo lei qual è il peso che hanno le politiche di integrazione per la sicurezza dei nostri paesi? Esiste sicuramente una questione di integrazione delle banlie, ma credo sia un po' affrettato pensare che un'azione condotta da gruppi di fuoco con spietata sincronia venga dettata da un brodo di cultura di disaffezione o marginalità. Sicuramente esistono delle aree grigie e tuttavia il grosso costo delle operazioni che vediamo in questo momento svolgersi ci riporta un'immagine tutto sommato schizofrenica. Mentre parliamo a Bruxelles girano pattuglie armate fino ai denti, fino a tre giorni fa a Bruxelles sembrava che non ci fosse un problema legato allo jihadismo, quando in realtà il Belgio è la società, in particolare Molenbeck, dove da un anno e mezzo gli investigatori si concentrano. Il gruppo di fuoco che ha sparato a Parigi per un anno e mezzo dai primi attentati, dal primo sparatore del Museo Ebraico che era alle dipendenze, di alcuni di quelli che poi vedremo in opera sul Thalys Parigi Amsterdam, così come su alcuni attentati non riusciti, la mitragliata che uccise una ragazza davanti a una chiesa viljuif in Francia, tutto questo ha un mandante unico. Pensare di militarizzare l'Europa intera a partire da una pista che è stata clamorosamente fallita dagli apparati investigativi credo che avrà dei costi molto grandi per la democrazia in Europa e credo sia necessario invece tornare ad affrontare con mente lucida i problemi dell'integrazione senza per forza voler vedere dei geni ispiratori. Grazie. Grazie. Grazie.